Buongiorno bitch, ho visto quel video e quindi mi è presa così Ma poi non capisco perché dicano sempre bitch, cioè boh Perché hanno le mamme bitch Non la capisco proprio questa cosa Comunque, allora ieri vi ho fatto il vloghettino di Pasquetta E oggi vi facciamo il vloghettino del mio compleanno Perché visto che ho gli anni di Cristo è giusto Festeggiarli Allora, ci siamo fatti un po' di regalini Andiamo Siccome, allora, stamani ho avuto proprio l'acquisto compulsivo E mi odio quando faccio così Però la voglio buttare sul dive, vaffanculo insomma Perché ho preso una paletta della Mecap Revolution Che è fighissima perché poi è il coso della Morphe, identica La cosa più bella, vi giuro, di cui sono felice ma strafelice E' l'auto abbronzante di Kim Kardashian Mi sento una figa perché ho l'auto abbronzante di Kim Kardashian E sto sicura che sarà l'auto abbronzante più bello della vita Costa una palla Se lo metti sul culo ti diventa un'auto abbronzante Lo sai, mi ha detto la tipa quando l'ho comprato Mi ha detto, mi raccomando, stai attenta perché Se te ne metti troppo Mi hanno detto che brucia Come brucia, gli ho detto E che è acido, muriati Questo vecchio ha detto qualcosa, non so cosa però Uccidiamo i vecchi No, sto scherzando E ho scaputo, ho scaputo Ho scaputo Aspettate Allora Ora si va Si va in fortezza Perché voglio sciogliere un pochino Ugo Quindi vediamo se riesco a scioglierlo qua su Che ci dovrebbe essere l'angolo un po' più scuro L'angolo scuro Ma che cazzo dico Cioè sono proprio ritardata E' l'auto abbronzante E' bravo Cioè ma mi ha mandato fuori Comunque ve lo farò sapere Costa una palla ragazzi Perché l'auto abbronzante penso siano 250 ml 12 euro Allora io volevo prendere il San Trové No, il San Moritz Che non costa una minchia E' un 250 Ai Mousse Di qua E costa 5-6 euro Quindi spedizione gratuita e tutto No amore Quassù va sciolto baby No, è l'unico punto dove si può No, è per questo si guardava Vabbè Comunque Se c'erano Comunque Il problema qual è? Che se lo prendi su internet Devi aspettare che ti arrivi Allora ne hanno fatti tre tipi In mousse In mousse In crema E quell'altro è spray Tutti e tre Lo stesso penso 250 ml Tutti e tre 12 euro Allora Allora a parte che già il packaging E' pazzesco Dai dai Guardate Ugo dietro a Piccioni Dagli Ugo Amore vieni però eh Qua giù Ugo Ugo Guarda Almeno siamo venuti qui Gli si fa fare una corsettina Perché lui poverino non corre mai Prima correva sempre Si portava un po' eh E invece ora porca miseria Non si può portare da nessuna parte E niente Allora Ho scoperto Grazie a voi Che questi c'è Che c'è? Palli squatter Palli squatter Palli squatter E che cos'è? Ah li squatter per il culo Perché Aline mi ha detto Sì 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 Eh io non lo so Allora Ho scoperto Che quei ragazzi Quello lì che vi ho detto Parla bitch 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 Si chiama Dark Polo Gang Me l'avete detto voi No Quelli fa pubblicità Si chiamano così Ehm Aspettate eh Allora Ecco Ugo che sgambetta Amore Eccolo 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 Aveva bisogno di correre Ciappala 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 Amore Ciappala Madonna Ciappala Gli è passato sopra Dagli Ugo Dagli amore Dagli Senti Ciappala Via amore Via 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 Ecco Ax Queste corse le faccia tutti i giorni E il lupo rio le boffa Bellino Adoro vederlo sfogare così Mi piace Dai Ugo dai 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 amore Forza 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 Via 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 Ehm Ehm Comunque si chiamano Dark Polo Gang E probabilmente tramite YouTube sono cresciuti E ho trovato pure un'altra che si chiama Mischeta E questa mischeta canta con Gli occhiali e il viso coperto Il problema di questa gente Anche di questa mischeta È che fanno delle anzoni che sono brutte Che palle Non mi piacciono E comunque riuscire a fare 50.000 euro In una serata Cazzo ragazzi E poi dai non puoi far vedere 50.000 euro In quel modo appaccata Cioè sta male anche per chi i soldi non ce l'ha E per chi lavora tutto il giorno E si fa un mazzo tanto E 50.000 euro Non le vede nemmeno in un'annata E farglieli vedere così Arriva un signore che spero non abbia il cane E mi sa che invece ce l'ha Qua sopra Scusi c'ha il cane? Vieni amore No No Se è in filone a pozza Non ci vedo Se è in filone a piscina Vabbè dai Noi stiamo un po' dietro a lui Che ci divertiamo un po' Comunque Stellina Che zocano Via Corri 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 Guarda Pillo ti può vedere Stellina Amore Ciao Ciao Patata Con questi zamponi Oddio Il tuo cane si è buttato qui dentro Si si ho ben deciso di buttarsi nella fontana L'unica fontana Ciao Buona giornata Ciao Stellina Ciao amore Vai saluta Ciao amore Ciao Bellino Dai Ciao capino Andiamo amore La svolta Il cane più bello in assoluto è il Cavalier King Mi sono innamorata Ma poi era tutta sistemata Oddio la cosa più meravigliosa del mondo Ugo ora è stanco Meno male Finalmente un po' si è corso Aveva bisogno Fuora bestia Guarda Ora per due settimane sta in casa Io buono Andando sempre con il mio babbo Lui era abituato E andava sempre a giro E invece purtroppo così L'Ugo era bestia Lina a giro ci va poco Però quando Il problema Lì fuori casa Non si sta anche in campagna No Sì che lo potresti pure portare fuori Tutto Ma No Ah ma non lo voglio E come è? Questo è un altro Ah è un altro Ehm Praticamente Niente Yo yo Bitch Bitch Praticamente Portandolo lì fuori casa No Dai amore Ok Ok Portandolo fuori casa Scusami Avevo capito che ti cosavi negli occhiali E' venuto di girarmi E Portandolo lì fuori casa A parte che ora c'è sempre cani E quindi non lo possiamo portare Perché Luco maschi Stamani si attracca Anci Wawa Manca un po' me lo sbrana E invece portandolo nel bosco In questi posti Osti Ce lo potremo portare Però E so un po' bighellona Lo ammetto Però le sue sette girate al giorno le fa Non è che non le ho Ce l'ho a casa Perché Boh Non lo so Le volevo prendere Poi non le ho presi E poi domani Ah no Ve l'ho fatto vedere nel blog Ho preso una magliettina dal cinese Che costa 100.000 euro Fatti conto verde Con fiori Che io fiori le ho sempre odiati Però c'ha tutte le righe tipo Adidas L'ho pagata 10.000 euro naturalmente No 100.000 euro scusate E ho fatto il Non ho fatto il mutuo Solo per dire ho fatto il mutuo No L'ho pagata in contanti 100.000 euro in contanti Per la mia maglietta E niente Bellissima Mi piace un sacco Veramente molto bella C'aveva tutto il completo Ma a me completi mi fanno cagare Vedi ora come sei stancato bitch Vabbò Comunque Io veramente Sollibita da questi Nuovi cantanti di oggi Sono un po' così Smorzata dalla situazione Bella C'è un L No un L Un SLK Questa è la macchina che c'ha il mio ex Quel ragazzo Che ci stavo quando avevo 15 anni E lui ricordava A vedere tutti questi macchinoni Però non è che le comprava Perché c'hava soldi Le teneva Con l'isis No sì L'isis Con l'isis Come si chiama insomma Quello che le tieni tre mesi E poi rivendi la stessa macchina Per prenderne un'altra Ma mi sento storti Ma mi sento torti Comunque Il nostro bambino ora S'è stancato Se il dio Così almeno oggi Starà un po' più tranquillo E niente Ora noi Ci prenderemo Un caffè bitch Allora Se qualcuno di voi Mi può Spiegare C'è capito Io non comprendo Allora Io C'è Perché veramente Allora I soldi fanno gola a tutti No Si sa che soldi fanno gola a tutti Quindi guadagnare quelle cifre A quell'età Ok No Può essere una cosa Che comunque ti Ok Però dai C'è Veramente Oramai è diventata Non lo so Una cosa un po' così No Non lo so Via Non è che mi sia piaciuto molto Il modo di fare Fa vedere tutti i miei soldi Innanzitutto Il mio papà ha sempre detto Che chi fa vedere i soldi Fa vedere che non c'ha cervello È un detto Che chi fa vedere i soldi Non mi ricordo com'è Chi fa vedere i soldi Fa vedere il cervello Una cosa del genere Chi c'ha soldi non c'ha cervello Eh no No Non è che c'ha soldi Chi fa vedere i soldi Non c'ha cervello Però Io mi domando E mi chiedo E mi chiedo Una Delle creature Che io penso A 18 anni Saranno maggiorenni Ma Perché si Cioè Guadagnano 50.000 euro A serata È normale Ma perché mi chiedo Hanno fatto una canzone tipo Mi fumo il gelato Al cioccolato Mi fumo il gelato Non lo sai Cioè A parte le canzoni Fanno cacare Il cazzo Quindi almeno facessero Delle belle canzoni Uno le ascolta Perché sono belle E invece no Vanno di moda Sti ragazzi Boh Quindi Arigazzi Che vedevo di Che se fanno tatuaggi nel viso Voi guardate I cosi I Di Underworld Che c'è il tipo Che c'ha il tatuaggio nel viso Ma c'è il tipo Che è Lezzo Lui abita giù Loro sono nell'Africa giù Del Sudafrica Spaccano il culo Cioè Se ci fanno sti scemi Mi fanno una risata nel muso Ha visto Poi lui è tutto tatuato nel viso No Ma che vedevo di Non lo so più So solo che Veramente È una tristezza infinita E Vabbè 50.000 euro Fanno gola a tutti Però Cioè Boh Come cazzo fai a prendere 50.000 euro In una serata Poi avete idea Di quanta gente Ci deve essere andata Di quanta gente Ci deve essere andata A guardarli Praticamente Perché E poi sono tutti ragazzini Giovani Cioè Normale Che poi L'età è quella Come Però vabbè Dai Ok Ora vi saluto Perché tanto siamo Arrivati dal bus Ci prendiamo Il mio amore Si è stancato Vedi ora Non tira neanche Ma ci prendiamo Il caffè Ma che bello caffè Pure il carcero Sanno fa E poi Ce ne andiamo Verso casa Imposta A ritirare il pacco A pagare Dobbiamo pagare Anche Dei caselli Che non abbiamo pagato Un botto Perché fatti conto Il casello Non si passava Costava quanto Amo 1.50 Quando si passava noi Ci si passava Fatti conto Una volta al giorno Quando non ci sapeva I soldi Si faceva Il pagherò Praticamente Cioè è arrivata Una sassata Vi pagherò Mi papà Non aveva già pagato I altri Quindi Va bene Beach Allora A parte Stamattina È un freddo Birbone Vi ho fatto pure Una story E Pocco cane C'avevo l'appuntamento Con il mio psicologo E naturalmente Se d'acomalato Aia mi sono morso la lingua E se ne sbatte il cazzo Ad avvertire la gente E quindi sono in città Allora sono vestita Un po' così no Questa è quella bellina Che ho preso da coso Poco questo qui I pantaloni Mi stanno stra stretti Perché non c'ho più Un cazzo di paio Di pantaloni Che mi vada Quindi ora c'è il mercato Quasi quasi Voglio passare in una di queste Cazzo di cose E voglio vedere quanto costa Una scheda Da 32 giga Invece da 16 Perché tanto a me Questi vlog Vedi stamani L'avevo messo in carica Avevo tenuto il computer acceso Invece la mia mamma E la mia nonna Cosa hanno ben visto di fare Di spengere il computer Quindi io dopo Prendo il tram A me non ce l'ho fatta A traslata di qua Allora stamattina Ho visto il prezzo Del dominator Del biglietto Osta 98 euro Che stanno ci voglio andare Non sento rombe Quindi qualcuna di voi Se ha qualche Dritto da darvi Sparate a raffica Allora stamani sono sola Perché vado da lì In più tardi E quindi Abbiamo un po' più di libertà Magari vi faccio Qualche vestitino Qualche cazzatella Dai Volevo fare colazione Ma come al solito Ma ero già presa Due caffè Quindi non ce l'ho fame Anche se l'abitudine Di fare colazione è buona Quindi prendetela E niente Dai Guardo qui Nel primo cinese Che incontro C'è un giacchettino Che è una fine del mondo 35 euro Con il pelo bianco Enorme Però ce ne ho mille Io prendo solo giacchetti E cioè che cazzo Dai Poi vi faccio vedere Quello e mi guardo Un paio di jeans Normalissimi 35 13 euro Ora io vi vorrei mettere Da qualche parte Naturalmente non so Mi ci vorrebbe forse Quello per attaccare Il cellulare Da tutte le parti Però vediamo qui dentro Quindi mo me ne provo E poi vi faccio vedere A parte che mo butto giù Il camerino Pensavo non mandassero Perché era esse E invece devo dire Che sono elastici E mi vanno Ok Perché purtroppo Dico purtroppo Perché comunque Avevo un sacco di robina bellina Sono ingrassata E di conseguenza I miei pantaloni Non mi vanno più E pensare che D'estate avevo un paio Di pantaloni neri Che mi cascavano Gente Mi cascavano Allora ora sono 46 kg Considerate che ero No scusate Ora sono 56 kg E ero 45 Quindi veramente piccola Sì insomma Allora i pantaloni sono questi Oddio sto camerino Viene giù Allora a parte la pancia Che voi non la dovete guardare Questo è finito La tabronzante spray Molto ci piace Le trovo tutte a vita alta A me non piacciono I pantaloni a vita alta Ragazze Vanno di moda Frigal cazzo A me non mi garbano Ora io non riesco naturalmente A farveli vedere per bene Ok vediamo così Ok dai No non so male Poi per 13 euro Mi garbano E pensare che Andavo a giro Con pantaloni Enormi Cioè 10 volte Vedermi ora con questi Non mi riconosco Così mi vedete meglio Almeno dai Sì sì Ci siamo dai Per 13 euro Va bene Ok Vai Andati Anche se anche questi Sono estivi Comunque Cioè qui ora Senza trovo un paio Di pantaloni invernali Ciao Ciao bambina I miei occhiali Sono fantastici Brava fami Se ci metti il telefono davanti Non vedi Una benemata minchia E Vi volevo fare un piccolo video Ieri sera Da aggiungere E invece non l'ho fatto Comunque sappiate Che C'ho il fondotinta Di Esteloder E dopo vi faccio vedere Che dura una balla C'ho da rifarmi Puri baffi C'ho l'illuminante Della MAC Stavate Troccatissima E strabere E secondo me Devo andare tutto il giorno Da lì Ne ho messo roba Che mi reggesse Un po' di più Ho parlato anche di roba Basta La svolta Guardate cosa ho preso 64 giga Allora a parte che io Mi sembrava di avere Ora passo a Tally Whale Mi sembrava di avere La scheda a 16 giga Invece ce l'avevo da 1 giga Quindi quella da 16 è sparita Ora io mi potrei Anche incazzare A questo punto Però Senti Paffanculo L'ho presa a 64 Almeno Qualsiasi cosa Ci voglio mettere Ce la metto E poi Volevo dare un'occhiata Qui da Tally Whale Perché c'è questo giacchetto Che lo punto Da un sacco di tempo Però Boh Che vedevo Disto Rosa Barbie Non so poi addosso Ma mi possa stare Quindi Udiamo Figo mi piace Però è troppo corto E a me Quando sono troppo corti Così Ed è comunque una 40 Però è bellino Però no Troppo corto Zero Però un po' di roba E tabellina Ce l'hanno Quel giacchetto strafigo L'ho preso qui Oddio Ora vi faccio vedere una cosa Allora A parte Queste Che potrei morire Adesso Dove sono Io potrei morire Ve lo giuro Le esigo 12 euro Sono mie Poi abbiamo Queste Che mi fanno pagare E queste Che mi fanno pietà Però queste Mi piacciono Anche se ci sono nere Io le prendo Naturalmente Bianche E poi abbiamo Questi bei pantaloncini Che però Sono troppo Largheggianti Lo stesso Non capisco Però D'inverno Capito No Non ce le spendo 12 euro Però queste Anche se sono Orribili Orribilanti Però la cosa Mi preoccupa Che hanno il pelo No È finto È finto Il pelo Questi sono bellini Guarda Un monte Sono pure a vita bassa 19 euro Wow Questi mi garbano Però 20 euro Sono troppe Mi scoccia il cazzo Spenderci 20 euro Che carucci Viola così Vabbò Niente Ora mando la foto Da lì Delle sciabatte Stare dai ragazzi Della Omnitel Per farmi spostare Tutta la roba Nello spazio Di là Della Della carta Della Della memoria Perché se no Non riesco Comunque a registrare Perché va spostato Tutto di là E non sono capace Quindi vediamo adesso Se me lo fanno loro Altrimenti Si è fatto Lugaz